Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 dei migliori alberi di Natale. Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link dei prodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo alla top 3 dei migliori alberi di Natale. Quindi cominciamo con l'albero di Natale Fairy Trees. Iniziamo questa top con un fantastico albero di Natale artificiale di Fairy Trees. Innanzitutto bisogna sapere che questo prodotto è un albero di Natale venduto e spedito da un'azienda tedesca. È una delle marche di alberi di Natale più famose in Europa perché è riuscita a produrre alberi di Natale artificiali con una qualità di produzione molto elevata ma anche con una durata di vita molto lunga. Inoltre gli alberi di Natale del marchio sono prodotti nell'Unione Europea il che significa che non dovete acquistare dalla Cina. È l'ideale perché potete riutilizzare il vostro albero di Natale ogni anno senza ulteriori spese o sprechi. Dovete sapere anche che ogni anno gli alberi di Natale naturali vengono coltivati solo per l'occasione e poi abbattuti. Gli alberi di Natale artificiali sono fatti di plastica. Certo ma se tutti li avessero non sarebbe necessario produrre alberi di Natale naturali ogni anno quindi si evita questa produzione. Poiché questi alberi non crescono ovunque devono essere trasportati il che provoca ancora più inquinamento. Inoltre anche se realizzato di plastica l'albero Freaky Trees è in pvc per essere precisi. Oltre il 50% di questo materiale è ricavato dal sale marino che è una materia prima ideale. Inoltre l'albero è molto denso e davvero bello con molti rami e aghi che aggiungono una bella densità. Per quanto riguarda l'altezza questo albero è alto 180 centimetri. Poi troviamo l'albero di Natale Totò Piccini. Poi ecco un marchio che vi avevo già presentato l'anno scorso con Totò Piccini. Il marchio italiano ci offre qui superbi alberi di Natale artificiali che saranno perfetti per essere utilizzati per tutta la vita senza dover acquistare un nuovo albero ogni anno e spendere soldi inutilmente. L'aspetto migliore di questo albero è che è facile da installare e smontare e che sono disponibili diversi colori. La cosa migliore anche è la cosa più bella e che sono disponibili diverse dimensioni. Infatti potete scegliere tra 120, 150, 180, 210, 240, 270 e 300 centimetri. Quindi come potete vedere c'è davvero tutto a disposizione a seconda dei vostri desideri e delle dimensioni della vostra casa. Anche l'albero di Natale è molto folto e di ottima qualità e il colore è assolutamente magnifico. Naturalmente anche questo albero è realizzato in pvc che garantisce una plastica con oltre il 50% di materia prima quindi è il miglior tipo di materiale che si possa scegliere in termini di rapporto qualità prezzo. Inoltre questo albero è naturalmente ignifugo e può essere riutilizzato per tutta la vita. L'ultima cosa da sapere è che ci sono tanti colori diversi che potete scegliere come nero, verde classico, rosa o altro. E per finire ecco l'albero di Natale di Giulia Griglio. Per concludere abbiamo di nuovo un albero di Natale italiano davvero pratico e di ottima qualità. Sono disponibili anche molte misure tra i 150 e i 270 centimetri. Questo albero di Natale è davvero incredibile perché ha molti rami aghi ed è molto spesso, il che dà l'impressione di avere un vero albero di Natale in casa senza il problema di doverlo buttare via alla fine della stagione. L'effetto è davvero realistico e quindi è un albero di Natale davvero bello da avere. Ecco grazie per aver seguito questa top 3, spero che ti sia stata utile, non esitare a mettere un like, un commento ed iscriverti al canale è sempre un piacere, ti ricordo anche che ho messo i link dei prodotti e le migliori offerte nella descrizione, puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video.